buongiorno ragazzi piccolo aggiornamento su quello che è successo dell'infiltrazione lo stato dei lavori ecco dell'infiltrazione ancora lì no vabbè volevamo dire del discorso che comunque il proprietario ci è venuto un attimo incontro una faccia da pulissimo scusate comunque confermo c'è dato io sono bellissimo c'è dato un piccolo risarcimento di circa la metà di quello che era il preventivo del tecnico esatto ci siamo accontentati e adesso guardiamo se fare qualcosa insieme cioè insieme scusa da soli ecco scusate abbiamo avuto una piccola interruzione allora dicevamo non ricordo più il risarcimento secondo me ci stavamo anche dicendo un po' su comunque sì anche quello è normale esatto e niente nel frattempo stavamo dicendo scusami stavamo dicendo aspetta che mi prendo in una maniera più decente sono brutta vabbè è così dai stavamo dicendo che invece di farlo fare un tecnico se riusciamo non cerchiamo di farcelo da soli che cos'è magari risparmiamo e magari ci bastano i soldi che ci dà il vecchio non è vecchio però è stato quasi onesto diciamo quasi non si sa noi cerchiamo di fidarci sì cerchiamo sono un po' vabbè comunque nel frattempo cosa facciamo abbiamo allora abbiamo messo a posto tappezzeria guardate tappezzeria cosa vuol dire tappezzeria solo la carta o tutto secondo me è tutto quello che va sul muro no scusate perché ho avuto una discussione con mia mamma stamattina carta anche le tende si non lo so le tende tendaggi se volete dircelo che siamo ignoranti sennò dopo faccio una ricerca sulle pappe tappezzeria e tende al cui wikipedia allora dicevamo qua c'è la tenda nuova se dire cosa cosa oggi video molto spartano devo dire tenda nuova sedia linee nuove con ma aspetta non posso girarla poi non si vede una piffera insomma tende divano divano nuovo un ricoperto vabbè dopo ve lo farò vedere meglio carta da parati si vede poco ma è bianca è bianca ma è carina in una nuova e proseguiamo a scrostare il bagno esatto guardate cosa sta facendo diego praticamente siccome siccome la carta da parati è tutta sollevata e vecchia e marcia lo tiriamo via tutto e vai yuhu piano piano la tiriamo via tutto e guardiamo anche se ci sono altre infiltrazioni sotto il legno sembra sempre messo bene meno male ma manco questo scusate sono veneta si sente abbiamo smontato il mobiletto è vero guarda si vede quasi quasi non lo rimetto su perché è comodo ma tu sei in bagno magari hai freddo e prendi la giacchetta e te la metti mentre fai i tuoi bisognini mentre fai la doccia esatto mentre fai la doccia prendiamo avanti stacchiamo tutto rimettiamo tutto guardate i capelli di diego che taglierò probabilmente esatto che sono unti e sporchi l'ultima volta li ho lavati a natale adesso è quasi pasqua esatto solo per le feste vabbè comunque possiamo salutare sono quattro minuti di rottura di balle di aggiornamento se vi abbiamo rotto non so se vi interessa comunque un bacino a tutti siamo un po' colosi no non è vero li tiriamo tutti i giorni ciao ciao a tutti ciao buona giornata